Pippo Biondo, siamo a pochi giorni dalla sfida con Bellino, una sfida che diventa decisiva per l'esito di questo play-in silver che assegna due posti per i play-off della Serie B nazionale. La squadra arriva a questo appuntamento caricata da una serie di vittorie importanti. Sì, noi arriviamo da tre vittorie importanti dopo la sconfitta con Avellino all'andata, quindi arriviamo in un buon momento, i ragazzi si stanno preparando bene, per noi è una partita importante perché da come ne usciamo capiamo se possiamo ancora continuare o no questo sogno play-off. Sono stati dei play-in positivi per Barcellona, quattro vittorie su cinque, una sola sconfitta proprio da Avellino che comunque è stata forse la svolta di questa fase del campionato. Sì, l'unica affinatore a fare una sconfitta e quattro vittorie. La sconfitta da Avellino ci è servita per rimetterci in careggiata perché è stata una brutta sconfitta, una brutta partita la nostra lì e per fortuna dopo quella abbiamo un po' sistemato le cose. Ne siamo usciti sicuramente da grande squadra. Questi play-in sì, siamo contentissimi dal percorso che stiamo facendo. Adesso paghiamo un po' il girone di ritorno, però siamo contenti, siamo contenti. Diciamo che gli obiettivi della stagione sono già stati centrati. Questo sarebbe una ciliegina sulla torta, la conquista dei play-off, giusto? Sicuramente sì, essere a questo punto a tre giornate alla fine e giocarci play-off era quello che sognavamo. Noi eravamo partiti per salvarci e per provare a creare entusiasmo. Credo che lo abbiamo fatto. Adesso vediamo come finiamo. Certo che essere qui è una grande soddisfazione per tutta la piazza. A proposito di piazza, domenica c'è questa sfida con Avellino, una sfida da altri tempi per Barcellona. Ricordiamo le sfide che abbiamo seguito da ragazzi per me. Ecco, cosa ti aspetti dal pubblico? L'ultima prova, diciamo, importante, l'ultimo pienone per dare la forza a questi ragazzi di fare il colpaccio. Guarda, sicuramente il Palalberto è stato il palazzetto più bello del girone, dei due gironi. Quindi credo che l'ultimo pienone ce lo meritiamo. Gli ultimi due ci restano le ultime due partite in casa. I ragazzi si meritano tutto il sostegno come c'è stato fino ad ora e non è mai mancato. Quindi vi aspetto domenica contro Avellino, domenica prossima con Marigliano per provare a centrare questo sogno. Ciao! 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 Grazie a tutti.